tutto food 2019 ci troviamo allo stand di madama oliva srl un'azienda che compie quest'anno 30 anni di attività e siamo in compagnia di sabrina mancini la responsabile marketing buongiorno sabrina e benvenuta dinanzi ai microfoni di orega tv per essere qui dunque sì la nostra azienda nasce 30 anni fa a carsoli in provincia dell'aquila in 30 anni abbiamo fatto ovviamente passi da giganti oggi rappresentiamo praticamente madama oliva un po in tutto il mondo nei cinque continenti negli anni abbiamo sempre più diversificato la nostra offerta puntando principalmente sul mercato retail ma abbiamo anche una vasta gamma di prodotti da proporre per il per l'oreca per il food service al tutto food di milano appunto lanciamo un ampliamento di gamma della nostra linea frutto d'italia e puntiamo anche l'attenzione sui prodotti healthy food quindi in particolar modo il lupino che sta avendo molta importanza nel nostro mercato siamo passati infatti da un fatturato alle casse di 6 milioni di euro a 11 milioni di euro quindi c'è un'attenzione particolare in questo e proponiamo le nostre olive denocciolate il nostro lupino sia intero che sgusciato anche in confezioni da 30 grammi o 60 grammi che sono quindi adatte per un consumo fuori casa snack e cercando appunto di fare comunicazione e informazione su diciamo il cibo healthy quindi benessere per la nostra salute questa linea presenta quattro referenze sono due olive siciliane denocciolate una condita e una non e due lupini un intero e uno sgusciato sono referenze che vengono presentate in espositori a bocca di lupo da 10 o 30 ovviamente a seconda del mercato di riferimento del canale di vendita e sono molto pratiche da poter consumare appunto on the road diciamo che abbiamo fatto venire anche a loro l'acqualina in bocca mostrandogli nelle immagini che scorrivano mentre tu li descrivevi e allora per tutti coloro che vorrebbero saperne di più magari dove poterlo acquistare se consumatori dove poterlo acquistare se addetti ai lavori c'è un indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno senz'altro l'indirizzo a cui poter scrivere è info chiocciola madamoliva.it qui potremo soddisfare le vostre richieste sabrina grazie 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 a voi grazie a voi